barbara d'urso tornerà presto a condurre un programma in prima serata ne è sicuro maurizio costanzo che ne ha parlato nella sua rubrica televisiva sul settimanale nuovo la conduttrice napoletana in questa stagione televisiva è rimasta alla guida di un solo programma pomeriggio un contenitore che tra l'altro non raggiunge più gli ascolti di un tempo e viene battuto quotidianamente dalla vita in diretta di alberto matano un'altra edizione della pupa e il secchione su italia 1 sembra invece escluso visto che l'ultima edizione non ha raggiunto gli ascolti sperati rispondendo ad una lettrice che sul magazine diretto da riccardo signoretti ha chiesto più spazio per barbara d'urso sul piccolo schermo maurizio costanzo ha fatto sapere prima o poi barbara d'urso tornerà in prima serata ha già ben condotto la pupa il secchione il ritorno del suo live credo sia improbabile capisco che molti telespettatori siano delusi al momento infatti mediaset non ha alcuna intenzione di proporre nuove puntate di live non è la d'urso ma non vuole fare a meno di barbara d'urso che per anni è stata onnipresente su canale 5 poi dopo la pandemia il suo ruolo è stato drasticamente ridotto ma in futuro tutto barbara d'urso resta fedele alla sua azienda e più volte si è detta a disposizione delle varie richieste ed esigenze di mediaset in attesa di valutare nuove proposte la 65 n si sta concentrando su altri progetti presto infatti tornerà a recitare a tea nei primi mesi del 2023 carmelita prenderà parte ad una tournée teatrale un ritorno sul palcoscenico che l'attrice attendeva da tempo questo non implicherà l'addio ai suoi programmi per mediaset e pertanto la diretta interessata ha di recente invitato giornalisti e blogger a smetterla di sparare titoloni sulla sua carriera pur di fare qualche click di troppo barbara d'urso ha sottolineato che potrebbe smentire subito sui social network le fake news che circolano sul suo conto ma preferisce restare il silenzio e fare altro barbarella ha precisato che continuerà a collaborare con mediaset dove lavora da oltre 20 anni ma non è escluso in futuro un passaggio in rai se si presenteranno le giuste condizioni